Ciao, oggi realizziamo un piano martire di design Ciao a tutti e bentornati, oggi facciamo un video diverso dal solito infatti non pensavo di che avrei mai fatto un video su un piano martire alla fine è un pezzo di legno, un pezzo di MDF messo lì, che sta lì a rovinarsi ma alla fine è venuto così bene che voglio parlarne in dettaglio in un video purtroppo non ho fatto riprese durante la costruzione del piano martire proprio per quanto dicevo prima, però ho fatto diverse stories su Instagram quindi chi mi ha seguito su Instagram li ha viste, se non mi avete seguito su Instagram mi invito a seguirmi su Instagram, comunque metterò alcune di quelle riprese in questo video quindi non rimarrete a bocca asciutta perché dico che è un video diverso dal solito? perché in genere i miei video hanno una gestazione molto più lunga ci metto solo una settimana a fare il montaggio invece oggi è ieri, quindi cercherò di fare il tutto il più velocemente possibile vediamo se esce qualcosa di dignitoso fatemi sapere nei commenti se comunque vi è piaciuto questo format e allora iniziamo a parlare del piano martire perché mi piace tanto questo piano martire? è carino, ma questo è opinabile, degustibus non disputandum ma soprattutto è funzionale quindi è un piano di design design infatti non vuol dire bello, non vuol dire di lusso non vuol dire materiali ricercati ma indica qualcosa che funziona infatti se chiedete a qualsiasi designer il processo di design non è un processo per realizzare qualcosa di bello ma per realizzare qualcosa che risolve un problema e questo piano risolve tanti dei miei problemi quali sono i problemi a cui deve rispondere un piano martire? sostanzialmente essere martirizzato cioè stare lì ed essere rovinato tempo dopo tempo però possiamo dargli altra funzionalità per esempio la prima cosa che ho fatto è realizzare una griglia di riferimento la griglia di riferimento è una griglia centimetro per centimetro e questo mi permette di montare i pezzi da fresare in modo abbastanza preciso che significa che risparmierò materiale e che soprattutto sul CAD, sul CAM o su Fusion o in qualsiasi altro programma posso vedere e posso immaginare il piano di lavoro e in questo modo avere meno sprechi e immaginarmi esattamente come sarà quella lavorazione su quel pezzo lì molto spesso infatti capita di dover lavorare con resti di altre lavorazioni qualcosa del genere in questo modo posso sapere benissimo anche sul CAD quale sarà la posizione e quale sarà la parte utilizzabile di questo pannello per la griglia ho utilizzato l'uniposca che conoscete tutti perché ho utilizzato l'uniposca? in realtà ho provato anche altre penne per esempio questa, Faber-Castell o altro questi sono i classici pennarelli per il CD però il legno che ho utilizzato definirlo legno mi sembra un parolone comunque è MDF che assorbe quindi questo che è un pennarello sostanzialmente a spirito l'inchiostro di questo veniva assorbito e quindi la macchia si dilatava e infatti poi è stato ereditato da mio figlio per fare i suoi disegni sulle MDF l'uniposca sono quelli a punta sottile il che mi consente un vantaggio dato l'ho fatto che la punta è retrattile e anzi scrive meglio quando la punta è premuta ok per realizzare la griglia avevo due opzioni uno è mettermi lì con righello e squadra ogni centimetro a fare un segno ma ovviamente non sarei mai e poi mai stato così preciso soprattutto quando abbiamo una lavorazione così lunga pensate che la macchina ha 120 cm quindi significa 12 segni per 12 volt sono 144 più altri 144 in questa direzione sono 244 segni più la griglia eccetera insomma io non riesco a fare due pezzi uguali l'uno all'altro figuratevi 244 segni la seconda opzione anche quella che ho utilizzato è stata quella di programmare la macchina la macchina infatti non è nient'altro che un robot che esegue i comandi che gli diamo in genere per realizzare degli oggetti si utilizzano dei programmi di CAM dove la M sta per Manufacturing Computer Aided Manufacturing in questo caso il CAM prende il disegno che vogliamo realizzare e calcola i percorsi dell'utensile della fresa dopo aver calcolato il percorso deve convertirlo in un linguaggio che la macchina capisce questo linguaggio è il G-Code che sembra una cosa molto difficile in realtà se chiedete ai vostri figli di programmare questa macchina loro sicuramente ci riescono meglio di noi perché probabilmente stanno studiando a scuola una materia che si chiama Codic che ai nostri tempi non c'era ma che adesso fortunatamente si sta sviluppando in diverse scuole Z meno ok Z meno 3 bravissimo Y meno 1 X meno X meno 1 bravissimo come funziona il G-Code sostanzialmente e come funziona il coding dei vostri figli quindi adesso possiamo anche capire i nostri figli funziona che diamo alla macchina una serie di comandi che sono sostanzialmente muoviti a destra alza la fresa muoviti in avanti eccetera questi comandi sono estremamente semplici nel linguaggio G-Code infatti spostati si dice G1 G1 più le coordinate del punto al quale vogliamo arrivare per esempio se vogliamo spostarci da questo punto a questo punto la coordinata di questo punto per esempio è 700 diciamo G1 X cioè ci muoviamo sull'assa delle X 700 G1 700 vogliamo alzarlo allora diciamo G1 non so 70 mm G1 Z70 si alza niente di più facile ora qui volendo fare qualcosa di più strutturato ho costruito una piccola libreria informatica che mi permette di scrivere il codice più facilmente e poi ho realizzato un paio di cicli forro per velocizzare il lavoro ma sostanzialmente il cuore del lavoro è questo fai un trattino sposta il pennino fai un altro trattino sposta il tre pennino poi ogni 5 cm mi fai un trattino al più lungo e poi continua poi ho scritto un altro programmino per disegnare la griglia la griglia realizzata ogni 10 cm e un altro programmino per realizzare il crocetto ogni 5 cm come colore ho utilizzato il blu perché venisse a contrasto e lì ho iniziato a rendermi il conto di quanto bello stessa venendo il pannello mi fai un altro programmino per rim shape Per bloccare i pezzi sul piano martire ho voluto utilizzare dei bussolotti come questi Questi li conoscete all'interno hanno una filettatura m6 quindi posso facilmente inserire una vite E hanno una filettatura anche esterna per poter essere fissati sul piano Quindi ho fatto un paio di prove realizzando un piccolo sandwich esattamente uguale a quello che ho realizzato per il piano martire Poi all'interno c'è un foro da 8 mm che è il diametro esterno del bussolotto Ora qui si ripropone lo stesso problema di prima cioè come fare 169 fori, anzi 164 fori Perché 5 erano già occupati dalle viti che tengono il piano martire attaccato al piano della CNC Come fare 164 fori estremamente precisi? Di nuovo programmando la CNC ho scritto un altro programmino estremamente semplice che dice sostanzialmente Fai un foro quindi G1Z0, G1Z50 per esempio e poi muoviti di 10 cm per fare l'altro foro Quindi G1X200 eccetera Solo che in questo caso il foro ha diverse dimensioni e quindi ho utilizzato diversi utensili Per fare il foro ho utilizzato una fresa da 8 che è il diametro esterno del bussolotto Che quindi è scesa fino più o meno a un millimetro sopra la fine del pannello martire Per non toccare il piano in alluminio, per non rovinare il piano in alluminio Quindi ho fatto un giro con questa fresa Secondo giro con una fresa Forstner da 15 mm per allargare il foro Terzo giro con uno svasatore Per realizzare l'invito che rende più facile avvitare il bussolotto E quindi ho ripetuto tutto questo L'ho fatto fare in realtà molto molto lentamente Quindi ci ho messo più o meno un'oretta Però io facevo qualcos'altro Quindi lasciate che i robot lavorino per voi E alla fine è questo il motivo per cui ho preso una CNC O perché ho una stampante 3D Ora qualcuno dirà Eh però alcune cose che fai con la CNC le potevi fare anche a mano E questo è vero e continuerò a farle Però questo mi dà la possibilità di realizzare 140 copie di una lavorazione Senza A. Perderci tempo io E B. Con una precisione che io non potrei garantire Quindi se già avete un pallino nella testa su una stampante 3D o su una CNC Pensateci seriamente perché questo potrebbe essere un vantaggio non indifferente Ora passo successivo Basandomi su un commento che mi è stato dato qualcuno di voi Vi lascio il link del suo profilo Instagram in descrizione Babbo il Grigio Ho realizzato dei distanziatori Sono sostanzialmente dei tappi Che andranno inseriti nel forro da 15 mm Che ho realizzato con la Faustner In questo modo posso sollevare il pezzo da fresare dal piano martire Come ho detto qualcun altro nei commenti Marco Su questo piano martire hai fatto tanto di quelle lavorazioni Che adesso ti serve un altro piano martire da mettere sopra E questo è l'altro piano martire Quindi cosa significa che i pezzi da lavorare saranno sollevati 2 mm dal piano martire Il che significa che il piano martire sarà martirizzato quindi soffrirà molto meno E quindi durerà di più Questi li ho stampati con la stampante 3D Il costo di uno di questi è il risorio Siamo sui 2 centesimi E se questi si rovinano ne stamperò altri Anche abbastanza velocemente E se per particolari lavorazioni mi servirà il pezzo direttamente sul piano martire Li posso semplicemente rimuovere Qualcuno ha chiesto Ma la fresa non rischia di rovinare la parte inferiore del pezzo che vuoi lavorare Dipende dalla fresa che si utilizza E questo è l'argomento di cui parleremo nel prossimo video Infatti testeremo diversi tipi di frese Da utilizzare sia sulla CNC Che nei normali banchi fresa O nelle fresatrici manuali Lo so che dico sempre nel prossimo video Però purtroppo molti dei miei video sono girati un paio di mesi prima Rispetto a quando li vedete in onda Quindi poi è possibile che la data di pubblicazione Vari di qualche settimana Una settimana prima Una settimana dopo Ma questa volta vi prometto nel prossimo video Ora anche questi sono un pezzo di design E anche qui non perché siano belli Perché poi sono obiettivamente belli Ma perché hanno seguito un processo di design Design significa appunto progettazione Non mi stancherò mai di dirlo Per risolvere un problema In questo caso il problema era abbastanza chiaro Però ho dovuto fare comunque diverse iterazioni Anche questo lo fate vedere molto approfonditamente sul mio canale Instagram Quindi se volete maggiori dettagli su quello che faccio Andatevi a iscrivere al profilo Allora questa è l'iterazione numero 1 Funzionava abbastanza bene su alcuni fori Su altri fori invece il fit era molto molto stretto Il che significava che potevo benissimo mettere il tappino Ma perché toglierli sarebbe stato molto più difficile Tra l'altro il foro centrale era 6 mm Esattamente quanto la filettatura E anche questo significava più difficoltà nell'inserire la vite Quindi siamo passati all'iterazione numero 2 E anzi numero 2 Numero 3 Numero 4 In cui ho variato i diametri Sia il diametro interno che il diametro esterno Questo per esempio mi sembra che fosse 14,5 Questo 15,25 Questo 14,75 Insomma alla fine ho trovato il diametro migliore Da lì in poi ho cercato di migliorare il design Per esempio mi sono accorto che in una delle prove Il dentino era molto piccolo Il che significa che come ho dato un piccolo arrotondamento a questo bordo Il tappo veniva annegato Scendendo più del necessario Come per esempio in questo caso E quindi sostanzialmente non avrei avuto più 2 mm Ma soltanto 1,5 mm Questo è il motivo per cui ho deciso di allargare un po' la parte superiore del tappo Ultima ottimizzazione è l'altezza I primi avevano un'altezza di 10 mm Ma in realtà non c'era bisogno che fossero così profondi Quindi li ho fatti più sottili E questa è l'iterazione numero 7 Il che mi ha permesso di dimezzare i tempi di stampa Pensate che uno di questi ha bisogno di 30 minuti per essere stampato Questo qui soltanto 15 Quindi questo è il prototipo funzionante Il numero 7 Dopo questo candidato ho dovuto fare un'ultima prova Che è l'ottimizzazione per la stampa in serie Infatti quando stampi tanti elementi in serie È possibile che non vengano esattamente uguali A quando ne stampi uno solo Questo perché subito dopo non si stampa il secondo strato dello stesso elemento Ma si stampa l'elemento successivo E poi successivo, successivo, eccetera Quindi significa che quando il pennino torna qui Per scrivere lo strato superiore Lo strato inferiore si è già raffreddato E si è un po' ristretto Quindi significa che il diametro del pezzo Quando è costruito in serie Potrebbe essere leggermente diverso dal pezzo stampato singolarmente In ultimo ho voluto fare un invito Qui, non so se si vede in camera Ma è un invito che mi facilita l'inserimento della vite E l'utilizzo è veramente semplice Basta inserirlo e girarlo Ora ho parlato per tutto il video di funzionalità Ma cosa vuol dire funzionalità in questo caso specifico? Significa che posso cambiare assetto del piano martire Quindi delle lavorazioni che sto facendo Molto velocemente Questo ad esempio è il setup che sto utilizzando per il prossimo video Un video in cui parleremo di queste bellissime frese Prossimo video Come vedete ho le videocamere, eccetera Per cambiare setup basta svitare questo Come le svito con un semplice avvitatore Perché qui ho utilizzato delle viti con testa a croce Semplicemente Quindi niente bulloni, nient'altro Basta svitare Pronti Finito Adesso sono pronto per fare un'altra lavorazione Per esempio posso montare un pannello intero E fare un'altra lavorazione Se poi mi serve tornare alla lavorazione di prima Niente di più semplice Basta utilizzare i stessi fori E i bustolotti che ci sono dentro Guideranno il piano esattamente nella stessa posizione In cui era prima Stessa altezza e stesse coordinate Ultimo elemento di design Colori Utilizziamo i colori Come vedete qui ho indicato Le coordinate In questo modo è molto più facile capire Qual è questo punto qui Perché per esempio questo qui è X600 Y300 E mi viene più facile comunicarlo alla macchina Per rendere questa suddivisione più facile Ho utilizzato anche un codice di colori Quindi abbiamo dei pallini verdi E dei pallini viola I pallini verdi ovviamente mi indicano il mezzo metro Quindi 0, 500, 1000 E adesso godetevi 30 secondi di montaggio Mentre monto la scorta di pallini E adesso godetevi 30 secondi di montaggio E adesso godetevi 30 secondi di montaggio E adesso godeto E adesso godetevi 100 Hollis Seguдаvi 100Hyifornini E adesso godetevi 30centi di montaggio E adesso Pool E adesso godetevi 30 qui E allora, noi ci vediamo al prossimo video, se sei iscritto al canale lascia un bel mi piace, se non sei iscritto, iscriviti, clicca qui, ciao!